Sai che la rucola non si fa solo in insalata? Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Eh sì, a casa 2 Cuore 1 K la rucola non si fa solo in insalata, ma ci si prepara anche un buonissimo pesto con anacardi. Bravissimo! Voi direte, sì sono veramente bravi, no non è vero, è che non abbiamo niente da fare, quindi pestiamo tutto quello che ci capita. No, no, siamo veramente bravi e ve lo dimostreremo. Spostatevi con noi di là che andiamo a preparare questo buonissimo pesto. Ed eccoci pronti per preparare insieme il nostro pesto di rucola, un'alternativa buonissima e ancora più saporita al normalissimo pesto di basilico, che comunque nella sua normalità è uno dei miei piatti preferiti. Ci occorreranno 80 g di rucola, 70 g di anacardi, 70 g di olio extravergine di oliva, 20 g di pecorino, 30 o 25 g di parmigiano reggiano e io un ciuffetto di basilico lo metto sempre, perché se no che pesto è? Cominciamo subito! All'interno del mio mixer vado ad inserire gli anacardi, il basilico e la rucola. La rucola io l'ho lavata e non l'ho strizzata troppo, la faccio frullare, diciamo così, con l'acqua che si è depositata sulle foglie. Aggiungo l'olio, tutto, e intanto do una prima rimestata. Se dovete conservarlo, lasciatelo così, dopodiché aggiungerete i formaggi in un secondo momento, quando andrete a condire la pasta. Io invece, che lo userò oggi per pranzo, metto il mio pecorino ed il mio parmigiano e continuo a frullare. Decidete voi se vorrete dei pezzi più grossolani o se vorrete un pesto a crema sottilissimo. Pronto per voi! Ed ecco qui il nostro pesto di rucola e anacardi. Provatelo e poi mi direte, è buonissimo! Vedrete che quel po' di basilico, quel ciuffetto di basilico, esalterà in maniera infinita il vostro pesto. Gustoso, buono, estivo, ma anche autunnale, per via degli anacardi che hanno un sapore leggermente più burroso. Provatelo e conditeci la pasta che volete. Io appena faccio un piatto di pasta con questo, poi ve la fotografo e ve la faccio vedere. Intanto vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, se pensi anche tu che questo pesto valga la pena di farlo, fallo allora perché è veramente buono. Buono e abbastanza economico, tra l'altro genuino, pieno di buone cose, è gustosissimo ed è un piatto di transito che può andare dall'estate all'autunno perché non è né troppo fresco, né troppo caldo. E dall'autunno all'estate ci può andare? Anche, sì, 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 puoi mangiarlo però anche l'estate e anche l'inverno. Come vi pare? È un piatto quattro stagioni. Quattro stagioni. Benché sempre verde. Sempre verde, benissimo. Bene, se pensi che quella cosa non sia rucola perché lei dice queste cose, hai ragione, hai pienamente ragione. Non è rucola, è rucola ed è buonissima. Provatelo e fateci sapere. Tra l'altro questo è stato oggetto di un What Aintima Day che vi mettiamo lì dove c'è l'icolo. Ah, pensavo che fosse stato oggetto di premiazioni, cose, cioè sono chiamata a Masterchef e niente. A Masterchef ho fatto... Masterchef! Che quelli cattivi. Masterchef. Allora, per chi mi dice dovreste andare a Masterchef, dovreste andare... Ah, mi dicono alcuni che dovrebbero andare a backing... Come si chiama? Bake Off. Oh, Bake Off. Ah, Bake Off! Io non ho fatta la premiazione. Ah, ho fatto la premiazione online ma non mi hanno calcolata di striscio. Ah! Neanche mi hanno chiamato per dire signorina non la prendiamo. E io le ho detto sono signora. Eh, lo so ma lei sembra una signorina. Ah, basta. Bene detto ciò, io ci provo ad andare a Bake Off ma non mi vogliono quindi mi dovete Bake Offare voi. Adesso provate il nostro pesto, diteci se vi piace e soprattutto ritornate qui da noi per il prossimo video. Ci rincontriamo sempre qua. Sottotabile! Ciao! Ciao! Mua! 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 Grazie a tutti.